Urli e strepiti di prima mattina di fronte alla basilica palladiana. Qualcuno chiama i vigili, c'è un uomo di mezza età che se la prende con una ragazzina. Quando i poliziotti locali arrivano, si trovano di fronte alla furia di un nonno disperato. Quella è mia nipote, racconta gli agenti, e so che è venuta qui per comprare droga. Come nonno ho il dovere di intervenire con le buone o con le cattive. Non posso permettere che una ragazzina venga privata della capacità di ragionare frequentando cattive compagnie.